Allora ragazzi qua non so a mare domani come siamo messi però dovrebbe essere buono per le spigole credo è dobbiamo essere buoni per le spigole domani come meteo non so da voi ma qua sta per arrivare una cazzo di tempesta di freddo che non la faceva dal 1929 qua in montagna e sono nel panico più totale hanno già chiuso le scuole per cinque giorni a partire da domani secondo me il paese c'è il rischio che si blocca nel frattempo non stavo da giocare a tirare di prena a mano un pochino a pisciato da poi e tu sei bello scaloso no ma c'è qualche mucchiettina di neve la neve quella vera è in arrivo da domani pomeriggio quella è proprio veramente grossa la nevigata grossa arriva domani e poi lunedì e martedì quasi 30 gradi sotto zero percepiti quindi questo pastocchio qua diventa un macello un macello no Grazie per la visione!